Oggi sono arrivati questi due mostriciattoli, Fiocchetto e la mamma. Sono stati adottati da delle condizioni non bellissime, infatti la mamma ha un sacco di crosticini ancora, le orecchie tutte rovinate. E adesso ci rimettiamo a nuovo. Facciamo un bagnetto con l'acqua ozonizzata, vero Fiocco? Così leviamo tutte le impurità. C'è un bagnetto con l'acqua ozonizzata. Risciacquo all'acqua ozonizzata. Dopo l'osciacquo abbiamo fatto il balsamo e lo risciacquiamo con l'acqua ozonizzata. Che aiuta a cicatrizare, antibatterica, comunque è un bene. Asciugatura. Che brutta sta vita, è vero? E' una vita proprio, i cari maltrattati adesso, vero? Vero? Ci ha mostriciattoli! E' dei mostriciattoli solo! Tu ti nascondi dal foon, ma al foon ti trova? Te lo dico, eccolo qua, visto che ti ha preso? Ti ha preso! Questo foon è proprio brutto, è proprio brutto questo foon. Che due? E' dei piccoli qui, tutti pronti che aspettano la mamma. E' vero? Dai, Magic! E' vero? Anche Magic vuole essere considerato, poverino. Ciao, bimbi. Saluto anche te. Ciao, Magic! Ciao, bimbi. Ciao, bimbi. Ciao, bimbi. Grazie.